Il terzo appuntamento di questo importante convegno di cardiologia ad Ischia, due giorni per parlare soprattutto, dottor Liccardo, se non abbiamo compreso male, leggendo così a naso, anche le introduzioni di aritmia. Di cosa stiamo parlando? Sì, parliamo non solo di aritmia, parliamo di tante cose. Io prima sentivo dire che questi sono argomenti trattati in questo congresso che riguardano poche persone o sono ostici da intendere, da capire. Invece non è proprio così perché nei nostri pronti soccorsi, nelle nostre cardiologie, queste sono patologie di grande impatto, con numeri abbastanza alti. E devo dire che il capire e la portata di queste patologie, anche dal punto di vista del paziente, delle persone comuni, del non medico, è cosa invece più semplice di quanto possa sembrare. Oggi per esempio ho avuto il piacere nel congresso che stiamo in prima giornata di avere in platea una coppia, un marito e una moglie, perché uno di questi due, il marito in particolare, proprio questa mattina in ospedale è stata fatta una diagnosi. Ho avuto il piacere di invitarlo al congresso perché si parlava anche del suo problema. La persona è venuta, ha avuto le idee più chiare dopo, ci ha ringraziato e ci rivediamo la settimana prossima in ospedale. Questo ha significato che questo tipo di divulgazione scientifica spesso è possibile ottenere dei risultati ben oltre quelle che possono sembrare, come dire, le preoccupazioni rispetto all'osticità del problema che non c'è, si è detta nei termini giusti e con parole giuste.